Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne Dire Monitor Italia sul borsino dei leader. Percentuali di valutazione positive su ciascun leader, voti da 6 a 10. Giorgia Meloni perde lo 0,1 al 43,4%, Antonio Tajani costante al 36%, Elie Schlein sale dello 0,2 al 30,7%, Giuseppe Conte scende dello 0,3 al 28,9%, Matteo Salvini al 27,4%, Emma Bonino 22,8%, Carlo Calenda 20,5%, Angelo Bonelli 16,6%, Nicola Fratoianni 16,2%, Michele Santoro 16,6%, Matteo Renzi 14,7%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.